Quando utilizzare il marketing online e quando invece è meglio utilizzare il marketing offline? Ciao, sono Neve Zucca e da più di 20 anni mi occupo di marketing B2B. In questo video voglio darti alcuni suggerimenti affinché tu possa fare, diciamo, la migliore scelta per il tuo contesto per quanto riguarda appunto il tema del marketing online e il tema del marketing offline perché spesso quando mi confronto con gli imprenditori o comunque con persone che si occupano di marketing spesso mi viene posta questa domanda, ma quando devo utilizzare l'uno e quando devo utilizzare l'altro? Cerco di dare una risposta per darti, come ti dicevo, qualche suggerimento. Intanto, che cosa vuol dire marketing online? Beh, questo forse è un po' più semplice da comprendere, riguarda tutte quelle attività di marketing che si fanno tipicamente con gli strumenti che oggi esistono via web. Quindi principalmente di cosa stiamo parlando? Beh, uno su tutti è sicuramente Google, ok? Quindi tutte quelle attività di web marketing nel caso specifico che si possono utilizzare con Google come per esempio Google Ads piuttosto che l'indicizzazione organica sono tipiche attività di marketing online. Ma oggi vanno molto di moda anche i social network. Quindi se io decido di fare una campagna sponsorizzata su LinkedIn per esempio piuttosto che su Facebook o su qualsiasi altro tipo di social network anche qui stiamo parlando comunque del mondo online. ma se decido per esempio anche di implementare una strategia di newsletter online perché le newsletter possono in realtà essere anche cartacee però spesso si tende ad utilizzare la strategia delle newsletter online. Quindi tutto quel marketing, tutte quelle attività che si basano sul mondo online rientrano appunto tecnicamente nel marketing online. Il marketing offline invece è tutta quella attività che andava molto più di moda una volta rispetto ad adesso che invece si basa sulla fisicità. Quindi l'esempio della newsletter te lo posso trasferire anche sul marketing offline. Oggi ci sono le newsletter che si possono assolutamente fare anche offline. Ma ti faccio un altro esempio. Se decido di veicolare delle lettere, se decido di veicolare un box ai miei clienti potenziali, quella è un'attività tipica del marketing offline. Quando utilizzare l'uno e quando utilizzare l'altro? Cerco di dare una risposta che sia il più semplice possibile. Ci vorrebbe sicuramente più tempo per poterla argomentare bene, ma cerco di dare dei suggerimenti macro per poterti orientare. Allora, sicuramente il marketing online, quindi una strategia che per esempio si basi su Google, faccio un esempio, è sicuramente adatta quando tu hai un mercato potenziale che è difficile da identificare, ok? Ti faccio un esempio, porto l'esempio di un nostro cliente. Il nostro cliente che produce finestre, lui ha due tipologie di target, la parte B2B rappresentata dai rivenditori, la parte B2C rappresentata dagli utilizzatori finali. Ecco, se lui dovesse per esempio implementare una campagna di marketing online che si basi su Google per intercettare il consumatore che ha bisogno di acquistare delle nuove finestre, farebbe sicuramente bene. Perché? Perché quel tipo di cliente è difficile da identificare. Cioè, come fai tu oggi a sapere chi potrebbe avere esigenza di una nuova finestra? sarebbe molto difficile. Quindi, in un oceano di clienti potenziali, quando non sono facilmente identificabili, quando numericamente sulla carta sono moltissimi, come faccio io a scovare questi clienti? Beh, sicuramente lavorare con Google potrebbe essere un'ottima strategia. Ti sto facendo degli esempi, ok? Come ti dicevo prima, sarebbe molto strutturata la faccenda, ma secondo me già con questi esempi riesci ad orientarti. Altro esempio che ti posso fare per orientarti sul marketing online. Se c'è della ricerca consapevole, che cosa vuol dire ricerca consapevole? Beh, se c'è qualcuno che effettivamente su Google fa delle ricerche che vanno nella direzione dei tuoi prodotti, dei tuoi servizi, di quello che tu risolvi come problema, anche quello è un ottimo motivo per implementare una campagna di marketing online con Google. Quindi anche se tu hai in realtà un target molto ristretto, molto contenuto, facilmente identificabile, dove potresti implementare delle strategie di marketing offline, in realtà se comunque c'è una ricerca consapevole, beh, perché non farsi trovare? Quindi ti sto dando ovviamente qualche esempio. Quindi quando hai bisogno dell'alzata di mano perché non sai scovare il tuo cliente, Google ti viene sicuramente in aiuto. Ti ho già un po' anticipato, quando invece va benissimo fare un'attività di marketing offline, quindi fisicamente mandare del materiale al cliente potenziale, beh, l'esempio è questo che ti ho portato un attimo fa. Quindi tipico nel B2B, tornando al cliente che ti citavo prima, lui se vuole acquisire dei nuovi rivenditori di finestre, caspita, quello è un target statico, sono facilmente identificabili, non sono in un numero infinito, io devo andarli a contattare direttamente, col marketing diretto e va benissimo fare un'attività di contatto che sia anche 100% offline, quindi gli mando dei materiali via fisico e poi faccio del follow up telefonico, quindi l'online nemmeno lo vado a toccare. Se vuoi implementare una strategia di marketing per la tua azienda che si basi su una strategia di tipo online, offline, o magari un mix delle due, compila il form che trovi sul link nella descrizione di questo video e senza impegno approfondiamo la strategia più efficace per la tua attività. Quindi tornando un attimino all'online e l'offline, poi come sempre è il mix spesso delle strategie a portare il maggior risultato. Perché ti dico questo? Perché a volte potrebbe aver senso mixare le due strategie. Ti faccio un esempio, se io vado a intercettare un cliente potenziale online, potrei aver l'interesse di cercare comunque di portare poi la mia comunicazione sull'offline. Perché? Beh, perché online è molto più probabile che tu sia portata di click dal tuo concorrente. Ti sarà capitato anche a te, cioè online basta un microsecondo per cliccare e cancellare una mail, per esempio, piuttosto che sei a portata di click da un banner che può saltare fuori da un momento all'altro su un sito web e che porta il tuo cliente che magari ha risposto a uno stimolo tuo a essere dirottato poi in un nanosecondo sul sito web del concorrente. Cioè online sei molto più soggetto ad essere vicino al tuo concorrente. Offline invece no. Quindi offline se tu mandi del materiale fisico, se tu veicoli il tuo libro al tuo cliente potenziale è difficile che sulla stessa scrivania ci sei tu e n ai tre concorrenti. Ecco quindi che mixare la strategia spesso è la strada magari che ti porta a maggiori risultati. Ma possiamo fare l'evento, l'esempio inverso, cioè portare i clienti dall'offline all'online. Perché potrei avere questo interesse? Beh, perché online ci sono una serie di attività molto interessanti di remarketing, ti sarà capitato anche a te di pronotare per esempio un volo aereo, di andare sul sito web della compagnia, poi spostarti magari su altri portali e vedere questo banner diciamo che ti insegue. Nel B2C questa strategia è molto efficace perché una percentuale importante di acquisti viene fatta a seguito di questi stimoli. Nel B2B è importante anche a livello di brand perché comunque la tua immagine, il tuo logo è presente in portali autorevoli che sostanzialmente trasferiscono un po' di questa autorevolezza anche per te. Quindi se io intercetto il mio cliente offline perché gli veicolo del materiale fisico posso decidere comunque di fare un'attività di remarketing che dura nel tempo e che lo vada sostanzialmente a stimolare costantemente per esempio con questi banner però devo portarlo online per agganciarlo e quindi per esempio se gli mando una lettera posso poi in questa lettera inserire un link per farlo andare su una mia landing page ecco che a quel punto io ho agganciato il mio cliente e posso andare a fare un'attività di remarketing. Quindi questi sono alcuni esempi che io ti ho portato. Quindi come dire, quando devi capire qual è la strategia più efficace cerca un attimino di capire questo. C'è una ricerca consapevole? Sì oppure no. Il target è facilmente identificabile? Non è targetizzabile? Sì oppure no. Perché queste sono diciamo le prime cose che ti devono balzare la testa come domande per capire che tipo di strategia implementare. E poi attenzione perché c'è l'aspetto economico. C'è l'aspetto economico vuol dire che per decidere quale tipo di attività fare devo avere il grandissimo controllo dei miei numeri. Perché non è detto che io per acquisire un cliente possa avere la possibilità di mandare che ne so un box che costa 40-50 euro. Cioè devo avere il controllo dei miei numeri. Anche l'aspetto economico può farmi scegliere se fare una strategia di tipo offline o di tipo online. Ma questo vale per qualsiasi tipo di attività. Cosa posso permettermi di investire? Devo avere il controllo dei numeri. Il costo di acquisizione del cliente, il lifetime value del cliente, quanto è la redditività del mio cliente nel tempo. Cioè devo avere il mio controllo per fare una scelta. Una volta l'online era sicuramente molto più economico di adesso, ora non è neanche più così. Ti faccio un esempio. Nel nostro caso abbiamo visto che i costi, soprattutto su alcune piattaforme come LinkedIn ma anche Google, sono aumentati moltissimo. Quindi quello che era il costo di acquisizione del cliente che io avevo su LinkedIn o su Google era una volta molto più conveniente rispetto a fare un'attività di marketing offline dove i costi di spedizione, le stampe costavano molto. Adesso le cose sono un attimino cambiate. Questo semplicemente per dirti che cosa? Due cose. La prima controllo dei numeri perché ovviamente online, offline, cosa posso permettermi? Dipende anche dai costi che posso sostenere e per poter sapere quanto posso investire devo avere un grandissimo controllo dei numeri della nostra azienda. Quindi fai le tue valutazioni tra online e offline valuta magari di mixare. Se vuoi approfondire senza impegno la strategia migliore per il tuo contesto contattaci, trovi il link nella descrizione di questo video e saremo ben contenti senza impegno di fare una chiacchierata con te. Ciao!